In America i bambini appartenenti alle minoranze guardano il 50% in più di tv rispetto ai bambini bianchi e passano un'ora e mezzo di più al giorno su computer e telefoni. Da qui l'aumento di diagnosi per malattie mentali, obesità, deficit di attenzione a partire dai 7 anni. Un tempo colmare il digital divide voleva dire dare le stesse possibilità digitali a tutti. Oggi il digital divide è tra quei bambini i cui genitori sanno che devono limitare l'uso degli schermi e tutti gli altri bambini i cui genitori pensano che più schermi uguale più successo o meno rotture di palle, aumentando così la loro dipendenza. Ecco perché il mitologico Chris Anderson avvisa che i figli dei poveri e del ceto medio continueranno a crescere con più schermi, mentre già oggi i figli dell'elite di Silicon Valley sono ritornati ai giocattoli di legno e al lusso delle relazioni umane. Ecco anche perché il 68% degli americani quest'anno ha rinunciato definitivamente o fatto un detox dai social media, perché per i bambini è tragico, ma anche a noi più grandi bene non fa. E questo è un minuto.